Cosa dire? Non è facile. Innanzitutto volevo ringraziare il professore Bruno che ha in maniera corretta, reale con tutti e molto efficiente condotto questa campagna elettorale e anche le votazioni di oggi. Certamente grazie di cuore al professore. Poi vorrei ringraziare il professore Foti, il competitor che a me ha avuto una competizione molto leale e correttissima. Quindi io lo ringrazio anche perché anche lui come me ha mostrato l'interesse per le sorti del nostro lavoro. Ringrazio in particolare il professore Filippo Drago che è qui presente, che mi ha dato anche il piacere di venire qui con me, proprio a testimonianza di un'antica amicizia che permane e che certamente va al di là di quelle che sono gli appuntamenti elettorali. E' proprio questo credo che abbiamo deciso insieme di camminare sulla stessa linea, almeno nella parte finale del percorso. Devo dire, ringrazio tutti voi, tutti i votanti, tutti coloro che hanno voluto esprimere la preferenza, sono tanti e ancora non neanche visto quanto sono, ma insomma sono tantissime e devo dire al di là delle più grosse aspettative per quanto mi riguarda almeno. questo testimone non solo la vostra fiducia nei miei confronti che io spero di poter ricambiare, ma mi carica di un grosso senso di responsabilità, di un grosso peso di responsabilità che spero di riuscire a sopportare bene, insomma spero di poter fare di tutto affinché non vi vendiate e di aver espresso questo voto in questi termini. Ma credo che l'interesse sia comune, vogliamo tutti ripartire velocemente, vogliamo fare il bene della nostra università con un sistema, un meccanismo di condivisione, di partecipazione, di trasparenza, di meritocrazia, che sono concetti che spesso ci sentiamo dire o diciamo, ma che a volte è difficile mettere in pratica, ma io metterò tutto me stesso per poter mettere in pratica in maniera concreta e reale.